Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, questi martelli hanno rotto le palle, hanno rotto anche me. Scusatemi, ma vi sentirete, spero non so ancora per molto di video, ma è così, iniziamo col video. Allora, oggi non sono qui per parlare di make-up, ma per parlarvi di un nuovo marchio, che è quello presentale. Si chiama New Chic, vi lascio ovviamente qui nello split screen, così potete vedere un po' tutto di cosa vende, la domanda è cosa non vende. Perché trovate veramente di tutto a prezzi bassi, sia prodotti per la casa, sia abbigliamento, accessori, accessori make-up, accessori per i cani, accessori per la cucina, accessori per la macchina, accessori di tutto, veramente di tutto. Vi lascio sempre il codice sconto, che aspettate che lo leggo, NCHOM15, ve lo lascio scritto qui. Per avere il 15% su tutti i prodotti vi consiglio di aprire il favore qui sotto per accedere ai link, così non sbagliate e ritroverete il portato scritto codice sconto, se non avete capito. Vi lascio il link, vi lascio ovviamente, troverete anche il link dei due prodotti che vi mostrerò oggi, che ho scelto io, che sono due prodotti per la casa. Vi sono concentrata su questo. Vi presento brevemente il primo, vi lascio il video, perché l'ho già usato, lavato ovviamente usato, ed è un set per il vostro letto, che comprende il lenzuolo sotto, il copripiumone, quindi il sacco, e le due federe dei riuscini color rosa. Ve lo faccio vedere qua, perché è fatto molto bene, è morbidissimo, e soprattutto ha la chiusura per il sacco del piumone. Sapete che molti ce l'hanno con i bottoncini e si sganciano, almeno a me capita sempre così, non rimane bello dritto, insomma bello fermo. Questo qua invece ha una zip, dove voi la chiudete, si chiude perfettamente e da perfetto. È veramente sofficissimo, io l'ho preso rosa, perché mi piaceva un sacco rosa, per la mia camera è tutta a garligio, a scura. E quindi questa è la prima cosa che ho scelto. Mentre la seconda, ve la mostro, vi lascio lo stesso qui un video più del prodotto che ho avvicinato, e ve la mostro che ce l'ho qui, è una coperta in lana spessissima, intrecciata, come vedete. Non è di dimensioni grandi, perché fate conto che mi copre, cioè, mi copre la sedia che ho qui dietro, ha una dimensione proprio di copertina, diciamo così, non è una coperta per coprire il letto, se pensate. C'è anche di quelle dimensioni. Io l'ho scelta appositamente piccola, perché mi piace come arredamento quando l'appoggio sulla sedia, ma, ripeto, vi lascio il video qui, da usare, appunto, se un attimo freddo me la tiro su, quindi è una copertina così, diciamo, un po' più piccolina. L'ho trovata in diversi, tantissimi colori, tantissime dimensioni, e, ripeto, il codice sconto è valido su tutto, ed è NCO15. Quindi, ragazze, vedete, io l'ho scelta blu. Che dirvi, vi lascio tutti i link, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, vi mando un bacio, e noi ci vediamo al prossimo video.